ciao a tutti benvenuti nuovo video affitti brevi in 30 giorni la serie dove spieghiamo in 30 giorni come entrare nel mondo degli affitti brevi prima di partire ti chiedo già un'iscrizione al canale qualora tu non l'abbia fatto con il tasto qua in basso e un bel mi piace al video per supportare questo genere di contenuti e ti ricordo che qua in descrizione è la possibilità di ottenere una consulenza gratuita con il nostro team e di avere ulteriori contenuti gratuiti sul mondo degli affitti brevi quest'oggi parliamo di acquisizione in subloccazione che non significa acquistare ma significa pagare un canone di fitto ad esempio di 1000 euro per avere il pieno diritto a subloccare questo immobile mettendolo su airbnb e booking e indovinate un po mettendolo su airbnb e booking non solo riesco a ripagarmi l'affitto ma mi avanzano anche dei soldi che mi metto in tasca in qualità di profitto in qualità di guadagno quindi se avete visto le puntate precedenti sicuramente siete consapevoli di che cos'è l'affitto breve di come funziona la subloccazione in cosa differisce rispetto al property management che invece ti permette di guadagnare ad investimento zero e quindi come riusciamo ad acquisire in subloccazione ovviamente un tema molto complesso che all'interno del nostro corso bmb academy che tra l'altro è il più venduto d'europa con oltre 4000 studenti ovviamente trattiamo con ore e ore e ore di lezioni casi studio file contratti e template però oggi vi voglio portare un piccolo riassunto prima del riassunto voglio farvi un esempio molto semplice di facile comprensione me lo sono scritto qui perché è uno di quelli veramente più basilari da raggiungere ad esempio abbiamo una casa da 1000 euro al mese un bilocale in una qualsiasi città abbastanza grande italiana e dopo aver pagato questi 1000 euro al mese di affitto noi abbiamo la possibilità di subloccare appunto questo appartamento su piattaforme come airbnb e booking ad esempio a 140 euro a notte bene con un tasso di occupazione dell'85 per cento quindi neanche a dire affitto tutte le sacrosanti notti che comunque è fattibilissimo se si sa fare questo lavoro bene a 140 euro sono più di 3500 euro al mese che io genero capite con un appartamento da 1000 euro al mese togliamo le bollette le spese di pulizia eccetera 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 comunque bene o male ci mettiamo in tasca sui 1500 euro al mese con un singolo immobile immaginatevi di avere 10 case così sono 15.000 euro al mese ora abbiamo sicuramente dei vantaggi e degli svantaggi e ve li voglio ovviamente spiegare all'interno di questo video vantaggio numero uno è che sei comunque totalmente autonomo in questo business non devi avere soci non devi avere necessariamente il contabile che ti fa tutto quanto insomma puoi lavorare tranquillamente da solo con la differenza che rispetto ad altri lavori magari per guadagnare 1500 euro al mese devi comprarti un ufficio stare lì a lavorare dalla mattina alla sera al tuo business sperare di ritrovare i clienti mentre qui i clienti arrivano in completa autonomia grazie ad armi in via e booking e 1500 euro è il guadagno di una casa ma tu puoi tranquillamente gestirne sino a 10 in totale autonomia quindi già sei super autonomo a livello di business ma se lo compariamo ad esempio al property management non dobbiamo neanche collaborare col proprietario nel property management noi prendiamo una percentuale degli incassi che ha generato la casa del proprietario quindi comunque abbiamo una sorta di socio al quale dobbiamo rendere conto che è il proprietario di casa nella subloccazione siamo soli che più soli non si può a meno che noi non vogliamo avere dei collaboratori o dei soci e ovviamente sono i benvenuti ed è possibile inserirli però non dobbiamo starli magari a rispondere al whatsapp del proprietario che ci chiede ehi come sta andando perché siamo in property management no siamo in subloccazione quindi siamo super al 100 per cento indipendenti oltre a questo statisticamente con la subloccazione si guadagna di più rispetto al property management magari con la simulazione che abbiamo fatto prima dei 3500 euro al mese magari un property manager in media può guadagnare 900 1000 euro che sono comunque un'ottima cifra ma in subloccazione c'è sempre quel qualcosina in più di guadagno che ad alcuni fa gola e quindi si guadagna bene col property management ma statisticamente con la subloccazione si guadagna un po di più dall'altra parte ci sono due piccoli svantaggi il primo è che ovviamente bisogna avere un minimo di budget per pagare il canone di fitto e magari qualche mese di caparra e soprattutto che c'è comunque una piccola componente di rischio imprenditoriale perché ovviamente noi dobbiamo mettere up front del denaro appunto per pagare il canone di fitto e c'è un rischio imprenditoriale non prendiamoci in giro mentre col property management ad esempio o con la gestione online il rischio imprenditoriale non c'è perché non dobbiamo sborsare neanche un centesimo ora già lo so che alcuni di voi staranno pensando ludovico ma la subloccazione è illegale sbagliatissimo l'articolo 1594 del codice civile la regolamenta e dice che se il proprietario è d'accordo è possibile attuarla dall'altra parte però altri di voi staranno pensando ludovico ma nel mio contratto di fitto c'è scritto che la subloccazione è vietata certo non devi utilizzare il classico contratto di fitto devi utilizzare un contratto ad hoc che ad esempio noi di bmb academy forniamo a tutti i nostri studenti della nostra community non solo perché il nostro contratto permette ovviamente la subloccazione ma anche perché il nostro contratto include tutta una serie di tutele che ti permettono di lavorare in maniera super serena e 100 per cento tranquillo oltre a questo in bmb academy ovviamente abbiamo oltre 70 ore di formazione dove ti spieghiamo la qualunque subloccazione property management gestione online col santalzi program e chi più ne ha più ne metta quindi là dentro veramente trovi la bibbia dell'affitto breve ma torniamo al nostro video cosa succede se ad esempio voglio subloccare una casa nella quale io non ho la clausola di subloccazione beh è ovviamente illegale e andresti incontro a sanzioni elevate e rischi molto grandi quindi il mio consiglio è quello di subloccare solo se ti è stato concesso oppure chiedi successivamente al proprietario se può concederti in un secondo momento appunto la possibilità di subloccare il tuo immobile ma se utilizzi i contratti di bmb academy non ti preoccupare perché la subloccazione è sempre inclusa un altro vantaggio della subloccazione è quella di poter operare senza partita iva in maniera 100% legale questo perché sino a quattro immobili si può operare in forma non imprenditoriale e la forma non imprenditoriale dice che appunto puoi senza sforare i quattro immobili andare a pagare solo il 21% di tasse sfruttando la cedola resecca quindi un ulteriore grandissimo vantaggio che ti dà questo business è quello di non dover necessariamente aprire una partita iva per iniziare a provare a fare questo lavoro e a guadagnare anche le prime migliaia di euro perché appunto sino a quattro immobili indipendentemente dal guadagno puoi svolgere il tutto in forma non imprenditoriale senza patentini senza licenze senza laurea senza niente di tutto ciò ma quindi abbiamo visto che per noi che vogliamo guadagnare grazie al business degli affitti brevi questa è una manna dal cielo è una vera e propria oasi e i proprietari invece che tipologia di vantaggio hanno nel darci a noi il loro immobile che poi sublocheremo beh sicuramente c'è un rischio di morosità ridotto rispetto ad un inquilino solito perché un inquilino solito magari la moglie rimane incinta l'anziano si fa male ed è praticamente impossibile sfrattarli noi al contrario di queste persone faremo un business con questa casa quindi non vogliamo avere rogne non vogliamo avere problemi e soprattutto guadagneremo bei soldi quindi l'ultimo dei problemi sarà pagare il canone di fitto e ovviamente anche l'ultimo dei nostri desideri è quello di occupare abusivamente una casa quindi il rischio di morosità se una persona ci dà il suo immobile in sublocazione è nettamente più basso oltre a ciò il canone di fitto ogni mese è praticamente assicurato quindi il proprietario di casa non si deve preoccupare di nulla perché ancora una volta il nostro è un business stabile che genera migliaia e migliaia di euro ogni mese quindi non abbiamo problemi a pagare il canone di fitto andando avanti uno dei temi che spesso mi sono trovato ad affrontare in questi anni e anni e anni di esperienza è quello del mi distruggono l'immobile cosa sbagliatissima perché un incolino normale come può succedere a casa vostra se si fa un segnetto sul muro o se si rompe una gamba della sedia se ne frega perché casa sua noi al contrario dobbiamo essere precisissimi da questo punto di vista perché un ospite che ha pagato 140 euro a notte vuole trovare la casa in maniera impeccabile quindi se ad esempio io trovassi un graffietto all'interno del mio immobile lo sistemerei immediatamente se si rompe un qualcosa lo sistemo in tempo zero perché un ospite potrebbe trovarsi male lasciarmi una recensione negativa e come dire rovinare il mio business per una stupidaggine ed ecco perché in realtà con l'affitto breve noi teniamo l'immobile in uno stato migliore rispetto a quello spesso in cui lo abbiamo trovato e oltre a questo abbiamo un grande incentivo nel mantenere l'immobile immacolato ovvero un'assicurazione che airbnb ti dà gratuitamente per ogni immobile che pubblichi sino a 3 milioni di euro ciò significa che se un ospite mi fa un danno oltre a volerlo sistemare io per evitare brutte recensioni ho il grandissimo vantaggio di poterlo fare a spese di airbnb quindi non c'è nessun motivo al mondo per il quale io non debba voler sistemare un danno all'interno del mio immobile può capitare poi che alcuni proprietari chiedano delle caparre o delle fideiussioni inutile dirti che se sei in grado di adempiere diciamo queste loro richieste il vantaggio sarà importante e avrai più probabilità di riuscire a convincere il proprietario di casa a darti il suo immobile in subloccazione se sei partito con l'idea di subloccare un immobile ma poi vedi che magari il proprietario non è convinto piuttosto che lasciarlo andare e buttarti a capofitto sul prossimo puoi sempre ovviamente cercare di proporre a lui un property management dove magari anche lui percepisce meno rischi e maggiori benefici un'ultima leva delle numerose che spieghiamo all'interno bmb academy ma che ti voglio anticipare qui è quella del pagare diversi mesi di affitto in anticipo infatti uno dei modi per convincere il proprietario a darci il suo immobile in subloccazione può anche essere quello di pagare ad esempio sei mesi in anticipo così facendo non solo dimostreremo a lui una grande solidità e molto probabilmente ci darà in gestione il suo immobile ma ci permetterà anche magari di negoziare il canone e di chiedergli uno sconto devo essere onesto sulla subloccazione sul come convincere il proprietario eccetera 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 c'è un vero e proprio mondo mondo che ovviamente è rappresentato da bnb academy che come ti dicevo prima è il corso più venduto in europa con oltre 4000 studenti e tradotto in ben quattro lingue detto ciò se vuoi continuare a formarti con bnb academy hai la possibilità di trovare dei contenuti gratuiti qua in descrizione e di prenotare una consulenza gratuita con il nostro team sempre dal link che trovi qua in basso iscriviti al canale metti un bel mi piace e se vuoi che tratti qualche tema in particolare nei prossimi video fammelo sapere nei commenti da ludovico cianchetta vasquez bnb academy questo è quanto ci vediamo nel prossimo video